La festa della rivoluzione, giunta la terza edizione, quest'anno diventa Festival d'Annunziano ed è dedicato al tema La città che sale, ritmo, velocità, movimento e alla rinascita della pineta d'Annunziana di Pescara, come hanno annunciato presentando l'evento promosso dalla regione Abruzzo La Stampa, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il sindaco Carlo Masci. La kermesse storico-artistico-culturale si svolgerà dal 3 al 12 settembre e sarà occasione di confronto su diversi temi che vedranno quale leitmotiv Gabriele D'Annunzio, la sua personalità, le sue gesta, il rapporto con Pescara, con l'Abruzzo e i luoghi nei quali ha vissuto, come il vittoriale degli italiani. Tra numerosi appuntamenti in programma, il presidente Sospiri ha ricordato che il 4 settembre al porto turistico si terrà la prima regata dedicata al Vate. Il 6 settembre all'Aurum è previsto lo spettacolo Clitemnestra, monologo scritto dall'ex presidente della Camera dei Deputati Luciano Violante, produzione del Teatro Stabile Abruzzese e il giorno successivo omaggio all'indimenticabile pilota automobilistico e motociclistico Tazio Nuvolari, mentre il 9 settembre al Teatro D'Annunzio Vittorio Sgarbi illustrerà 100 opere significative del pittore e fotografo Francesco Paolo Michetti. Il 12 settembre all'Aurum ci saranno gli eventi conclusivi, incontri tra i rappresentanti delle regioni Abruzzo e Lombardia, la presentazione di un libro e di filmati realizzati per celebrare i cento anni del vittoriale e il processo D'Annunzio. Ci piace sempre metterci in gioco e quindi vogliamo che non ci sia solo chi parla come noi bene dell'esperienza di D'Annunzio, ma sarà anche la possibilità a chi lo vuole criticare. Ovviamente daremo come a tutti un giusto processo, quindi con accusa e difesa e un giudice neutrale. Nel ricco programma del Festival ci sono anche diversi concerti che vedranno protagonisti, Francesco De Gregori, il Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara, Morgan, Stefano Bollani, Alice che canterà Battiato, Carima ed Edoardo Bennato. Imponiamo l'acquisto di un ticket ma di un contributo liberale per la rinascita della pineta, cioè chiunque verserà una risorsa frequentando questi eventi culturali importanti che ci sono, questi soldi saranno poi consegnati al comune di Pescara, al comune di Ortona, agli altri comuni della costa dei Trabocchi, cioè ai luoghi d'Annunziani che sono stati così duramente colpiti dagli incendi. Il sindaco Callomasci ha rimarcato che l'evento si inserisce in una stagione estiva che nonostante la pandemia vede un boom di presenze turistiche in città. Allunghiamo anche la stagione estiva perché andremo fino al 12 settembre, Pescara è piena, scoppia di gente, di turisti che avranno anche la possibilità di continuare a stare a Pescara godendosi questo festival d'Annunziano che come iniziative, come spettacoli è sicuramente di livello nazionale ed internazionale.